Sono 800 gli studenti dell'Università del Salento che rischiano di perdere il prossimo anno la borsa di studio. La stretta voluta dal nuovo decreto partorito dal ministro Francesco Profumo rischia di trasformarsi in una vera e propria ghigliottina sulla testa degli universitari che frequentano a Lecce. È per questo che l'associazione Link Udo ha chiesto, avendo l'assessore regionale allo studio al basasso, di opporsi all'approvazione del provvedimento nella conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio. I calcoli fatti dal sindacato degli studenti lasciano spazio a poche fantasie. Su 3.405 studenti idonei che usufruiscono al 90% della borsa di studio quest'anno potrebbero essere tagliati fuori in oltre 800. Noi contestiamo questa bozza di decreto che viene approvata sempre con lo stesso copione, cioè dove gli studenti praticamente non vengono presi a studenti in considerazione, dove non si chiede cosa pensiamo del sistema del diritto allo studio, delle università, dei luoghi, della formazione in cui viviamo. E il parametro sul reddito è il più preoccupante perché finora omogeneo si differenzia adesso per le regioni del centro, del nord e del sud Italia, passando dai 20.000 euro ai 17.000 ai nostrani, 14.300 euro. Tradotto significa che chi ha un'ISE superiore a questa soglia è escluso dall'idoneità alla borsa di studio. A Lecce sarebbero in 392. A questi si aggiungono 416 altri universitari che non rientrerebbero in base alla proiezione fatta di numeri 2012 nelle fasce di merito, perché i crediti accumulati entro agosto e al di sotto dei quali si esclusi subiscono un'impennata di 10 punti in media in più. Viene introdotto anche il limite d'età per poter presentare domanda. 25 anni per le lauree triennali, 32 per le specialistiche magistrali. Si riducono anche gli importi delle borse perché almeno risulta in sede a pendolare a vantaggio dei fuorisede, che però saranno una cerchia più ristretta. Si passa dai 65 ai 75 minuti di percorrenza da casa all'Ateneo. Lo stato di agitazione è solo agli inizi. A conti fatti i fondi attualmente necessari per Lecce ammonterebbero a oltre 10 milioni di euro, dimezzati a 5 milioni con i nuovi criteri e con la metà 2.400.000 euro già pagati di tasca propria dagli studenti.